Con l'avanzare delle nuove tecnologie e i progressi fatti registrare dalla robotica di precisione, cambiano anche le procedure di diagnosi e cura delle patologie otorinolaringoiatriche. Il punto sulle novità chirurgiche ed endoscopiche lo hanno fatto i 300 partecipanti al 42esimo convegno nazionale organizzato a Barletta dall'Associazione degli Otorini Ospedalieri Italiani. Specialisti, provenienti da ogni parte d'Italia, si sono confrontati sull'evoluzione degli studi in campo otorinolaringoiatrico determinata dagli ultimi progressi scientifici. Un contributo importante alla discussione è arrivato anche dai risultati raggiunti nell'ultimo anno dall'ospedale di Miccoli di Barletta. In Puglia abbiamo delle tecnologie che si possono invidiare. Abbiamo portato qui a Barletta, all'ospedale di Miccoli, la Flex Robotics, che è un robot nato per gli otorini, non mutuato da altre specialità, che serve per la chirurgia transolare. Una chirurgia che consente di togliere la malattia senza danneggiare i tessuti sani. Quindi si arriva nella base della lingua, nel vestibolo laringea, nella laringe, nell'ipofaringe, senza attraversare i tessuti sani. Quindi non si traumatizzano altri tessuti, si può fare un intervento radicale dal punto di vista oncologico senza avere la trachetomia e quindi riduce la degenza ma ancora più modifica in maniera sostanziale la qualità della vita. Migliorare l'offerta sanitaria anche qui in Puglia vuol dire ridurre i viaggi della speranza di chi cerca in altre regioni italiane la cura più efficace alle proprie patologie. I viaggi della speranza ci riempiono di gioia quando non avvengono, perché riusciamo a curare le persone nel posto dove sono nati, con i parenti, con gli affetti, con gli odori, con la luce di chi è sempre vissuto in un posto. Fondamentalmente riduce anche la possibilità di portare risorse fuori dalla regione Puglia, quella che sta un po' danneggiando tutto il sistema regionale. Questi 180 milioni di euro di extra regionale stanno condizionando la qualità delle cure dei cittadini pugliesi. L'impegno del dottor Michele Barbara in campo medico e divulgativo verrà premiato con la nomina alla presidenza dell'Associazione Autorini Ospedalieri Italiani. Un orgoglio venuto con dieci anni di lavoro. Questo lavoro è stato apprezzato anche a livello nazionale perché noi dobbiamo tenerci conto, dobbiamo tener conto che il lavoro che facciamo ha una valenza specifica sia su quello che facciamo sui pazienti ma anche su quelli che sono gli aspetti organizzativi che non devono mai essere trascurati e questo aspetto è importante finché la nostra specialità ritorna a essere una specialità importante. Il dottor Lino è il chirurgo della testa e del collo, quindi non è il chirurgo delle tonzille e della diaroni come abbiamo dimostrato in questo congresso dove ci sono altissime e organi complessissimi che vanno trattati da altri specialisti.